Per questo lavoro è il mio cliente, per il mio cliente, che è una zona di automobili. Se succede qualcosa, a me non è per un cazzo, a me si. se lei mette la macchina lì se lei metto la macchina lì metto la macchina lì metto la macchina la prima chiama vuol vedere che è risultato è un pre potente è un pre potente è un pre potente lei va bene è un pre potente è un pre potente guarda è un pre potente guarda 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 Hyundai sono quelli elettrici guarda quasi il genio si la Ioni decoro arrivo 7 minuti Grazie a tutti. 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 Grazie. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. a tutti. Grazie a tutti. a tutti. a tutti. 0-0. a tutti. 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 a tutti.